Anche l'associazione I miti dello sport scende in campo per dire basta la violenza sulle donne e lo fa a Pesaro con una conferenza stampa. Che cosa avete organizzato? Il 25 di novembre ci sarà appunto una conferenza stampa dal titolo Non è amore, è uniti che si vince, che è lo slogan dei miti dello sport. Ci saranno delle donne e degli uomini che rappresenteranno appunto questa associazione, che porteranno la loro esperienza per lanciare un messaggio di solidarietà e di unione. Soprattutto l'idea è quella che fare squadra vince sempre. E ci saranno tanti campioni? Esatto, ci saranno campioni dello sport, Giorgia Masia che è la giocatrice di calcio della Nazionale Italiana, avremo Maria Luisa Garatti che è una maratoneta record e Giovanni Letizia che è il mental coach dei miti dello sport e poi tanti altri che non sveleremo per ottenere la sorpresa. E anche la sala verrà allestita a tema? Sì esatto, noi faremo la conferenza nella sala rossa di Piazza del Popolo e questa sala sarà proprio un'immersione totale dentro questa tematica importante con delle fotografie della fotografa Elisabetta Fusciani che è appunto una nostra conterranea della provincia di Pesaro Urbino e poi ci saranno tante scarpe rosse per ricordare appunto le donne vittime di violenza. Per l'occasione ci sarà una bottiglia speciale che verrà appunto presentata e la raccolta fondi che verrà effettuata sarà devoluta per un'associazione di donne vittime di violenza. Grazie per la visione!